Proseguono i lavori di asfaltatura? Proseguono i lavori di asfaltatura e soprattutto proseguono nelle zone anche più diverse. A Lido sono un attimino sospesi causa maltempo, stiamo lavorando a Carignano. Fra l'altro ieri sera abbiamo avuto un'assemblea molto partecipata a Rocco Sambaccio perché da giovedì inizieremo a fare l'asfaltatura anche nell'abitato di Rocco Sambaccio. È un lavoro molto atteso soprattutto in relazione al fatto che asfaltando metteremo mano alla segnalettica orizzontale e verticale per permettere attraverso l'abitato di Rocco Sambaccio in piena sicurezza, piena sicurezza di chi ci abita. Quindi faremo delle zone di ristringimento alla carreggiata in maniera tale che chi dovrà attraversare quell'area abbia dei ristringimenti, quindi dovrà diminuire la velocità e rendere anche più sicuro quella zona che è comunque abitata da decine di persone e poi faremo anche dei parcheggi lungo la strada laddove sarà possibile farli che sono molto richiesti in un'area piccolina ma comunque molto abitata. L'assemblea è andata bene, hanno apprezzato il nostro lavoro, ovviamente da giovedì, tempo permettente, dovrebbero iniziare veramente i lavori di asfaltatura. Inoltre c'è una precisazione da fare per quanto riguarda l'asfaltatura di Viale Cairoli. Sì, in Viale Cairoli abbiamo asfaltato sia la sede stradale che i controviali. È rimasto fuori dalla nostra previsione il controviale pedonale che si trova lato Pesero, non per nostra volontà perché nel 2017 Ase Spa ha già previsto i lavori di monifica dell'acquedotto, quindi non è una dimenticanza o una carenza di soldi, è una necessità dovuta al fatto che comunque nel 2017 quei lavori saranno fatti da Ase Spa e quindi ripristinarà l'asfalto così come dall'altra parte abbiamo fatto tutto su Viale Cairoli.